Le processioni della Settimana Santa potranno riprendere sempre nel rispetto delle normative di sicurezza nazionali a partire dal sabato 9 aprile, vigile della Domenica delle Palme. Secondo quanto disposto dal Vescovo della Diocesi in Isena, Monsignor Mario Lussotto, si svolgerà infatti la Via Crucis, evento curato dalla Diocesi attraverso l'Ufficio Pastorello e Giovanile, la cui equipe è coordinata da Padre Leandro Giugno. Il tragitto sarà quello tradizionale, quindi Piazza Garibaldi, Corso Umberto, un tratto di Via Redentore, Via Maddalena Calafato, Via Leconte Testa Secca e Corso Vittorio Emanuele, per poi ritornare in cattedrale. Lungo il percorso verranno sistemate le vare e il corteo guidato dal Vescovo si sposterà tra le varie stazioni della Via Crucis. I grandi gruppi sacri al termine entreranno in cattedrale e vi rimarranno fino al giovedì santo. Mentre nel precedente decreto si invitava a non utilizzare durante le celebrazioni della Settimana Sante i fuochi di artificio, anche in questo caso viene mostrato un segno di solidarietà per la popolazione ucraina. Mi auguro che la via pratica della Via Crucis, scrive infatti Monsignor Russotto, sia un'occasione preziosa per pregare insieme per la pace. L'evento avrà inizio alle ore 20.